che parole spiego cosa andremo a fare questa è la cassa della moto noi andiamo a scaricare la cassa e assembleremo la moto dopo lo sballaggio metteremo in moto e ci farò e ci farò verifiche tempi e gara tutto in un colpo sono buona la prima ecco e abbiamo fatto il pieno prima accensione buona la prima come al solito allora niente è finito questo weekend è andato tutto perfetto io sono soddisfattissimo ottava posizione in grida di partenza due dodicesimi che è il massimo che si poteva fare perché moto strettamente di serie sballata dalla cassa senza fare nessunissima regolazione rapporti originali carbura tutto originale posso ritenervi soddisfatto alla fine ho centrato il mio obiettivo dimostrare che con poco ci si diverte e poi anche perché a trent'anni giusto dall'ultima gara una soddisfazione doppia e niente ringrazio la famiglia bommartini è una dedica che faccio questa in merio sono contento l'ho portato con me sulla moto e niente grazie anche i fratelli bommartini stefano che mi ha sopportato e suo papà e niente mi sono divertito spero che sia ad esempio per qualcuno che senza farsi tanti problemi compra una moto e se vuoi divertirsi anche gareggiando lo può fare io l'ho dimostrato sono contentissimo la prossima non so cosa mi inventerò la prossima